Ciao a tutti ragazzi, sono Alien e sono qui in modo molto veloce ma spero di impatto per chiarire quali saranno i contenuti che riceveremo con e senza l'acquisto della prossima espansione New York Underground in uscita il 28 giugno su Xbox One e PC e il 2 agosto su PlayStation 4. Sì, lo so, posso immaginare benissimo l'impazienza di giocare ad Underground, mi rivolgo agli amici di PlayStation ma il fatto di arrivare a giocarci un mese dopo non significa necessariamente restare così indietro rispetto agli altri. E adesso mi spiego meglio, vi riporto l'articolo ufficiale pubblicato da Ubisoft sul sito ufficiale di The Division, i contenuti esclusivi per i possessori di contenuti scaricabili, quindi la singola espansione New York Underground che costa 14,99€ oppure il Season Pass che costa 39,99€ che comprende le tre espansioni. Dicevo, i contenuti saranno ovviamente la modalità Underground, quindi quella di cui vi ho già parlato e di cui vi lascio il video in descrizione dove analizzo come funziona nel dettaglio, la nuova incursione, la Tana del Drago e quattro nuovi set di equipaggiamento esclusivi oltre naturalmente a ricevere l'aggiornamento 1.3. Chi invece non compra l'espansione riceverà il 28 giugno, al pari di quelli che l'hanno comprata, l'aggiornamento 1.3, tutti, PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa comprenderà l'aggiornamento 1.3? Risoluzioni di bug, bilanciamento delle armi, anche di questo vi ho parlato ma non ci sono dettagli precisi, Massive li pubblicherà quanto prima, cambiamenti alla dinamica di gioco tradotto, l'innalzamento del punteggio massimo per tutti, armi massimo 2.29, pezzi set massimo 2.68, oppure l'arrivo delle due missioni di storia Hudson Yard e Queen's Tunnel a livello molto difficile e la nuova difficoltà eroica che prevede l'arrivo di nemici di livello 35 per tutte le attività attualmente di livello molto difficile, quindi le tre missioni di storia più le due incursioni. La 1.3 prevede l'arrivo di nuove armi, avevate già intravisto il fucile d'assalto blind, no? Ma ho anche visto un P90, un SVD, quindi amici miei, nuove armi in arrivo per tutti e inoltre ci sarà un nuovo set equipaggiamento per tutti. Quindi come vedete nessuno viene lasciato indietro, neanche quelli che giocano su PlayStation 4 e che non acquistano l'espansione. Ovviamente acquistando l'espansione si può giocare a The Division a 360 gradi, visto che una delle domande che più mi fate è se conviene o no acquistare i season pass. Io ho sempre risposto, beh, prima di farlo cerchiamo di capire quali sono i contenuti prima. La modalità underground è un'aggiunta che onestamente mi fa impazzire, la cosa che ho sempre desiderato, stile diavolo, contenuti randomici su mappe generate randomicamente, giocate su difficoltà scalabili e che non vi forzano a giocare con un gruppo a differenza delle incursioni e comunque c'è il matchmaking. Ci passerò le ore, veramente, perché offriranno contenuti sempre nuovi ogni volta che ci giocheremo. Quindi, ripetiamo, tutti con o senza espansione si beccano la patch 1.3 che prevede risoluzione di bug, bilanciamento armi, punteggi 7 armi innalzato, missioni eroiche più 2 nuove a molto difficile, incursioni eroiche, nuove armi e nuovo set di equipaggiamento. Chi invece acquista l'espansione o il season pass riceve, oltre a tutto questo, la modalità underground, la nuova incursione Tana del Drago e 4 set di equipaggiamento esclusivi. Qual è la morale? Che i contenuti che già ci sono vengono aggiornati, quindi Missing in Action non diventerà obsoleto, per esempio, e chi non acquista le espansioni non viene lasciato indietro. Chi invece acquista ha più contenuti e, credetemi, una cosa del genere in giochi come questi non sono semplici da realizzare. Una precisazione riguardo uno dei set che vi avevo mostrato, il frontline o prima linea. Beh, quel set non sarà incluso nell'aggiornamento 1.3 e che in ogni caso tutto quello che vi ho mostrato a livello di statistiche potrebbe cambiare, quindi forse è meglio attendere un attimino prima di dichiarare finali quei perk dei set o le statistiche delle armi. Tipo uno dei set che non era stato mostrato, che con due pezzi aumenta del 100% la velocità di cura della stazione di supporto, con tre aumenta del 50% la durata dei consumabili e con quattro pezzi. Ogni volta che si applica un consumabile, questo ha effetto su tutti i membri del gruppo e non consumeranno unità, cioè consumabili infiniti. Non so se verrà confermato così com'è. Va bene, ragazzi, questo è quanto. Spero di essere riuscito a chiarire le idee un po' a tutti. Io continuerò ad informarvi se ci saranno novità a riguardo. Al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta. Love and peace, agenti! We go!